Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed in questo breve video vediamo un'utile estensione per Google Chrome chiamata Fullscreen che intuitivamente servirà ad ingrandire appieno la schermata del nostro browser lascerò sicuramente in descrizione la pagina per il download dal Chrome Web Store ed inoltre la pagina ufficiale dello sviluppatore che fra l'altro ha pubblicato numerosi lavoretti molto utili direi perché per esempio Tarnoff permette di oscurare appieno la videata del browser tranne il video riproduzione, molto utile per chi utilizza YouTube e vede video in sequenza spero che saranno i miei di video, comunque vediamo velocemente come funziona questa estensione una volta scaricata ed installata dovrete semplicemente cliccare sull'apposita icona presente fra le altre estensioni installate e come vedete a 360 gradi vi si ingrandirà lo schermo del browser generalmente questa estensione utilizzata per navigare in un unico sito comunque potrete visualizzare le diverse finestre attraverso le scorciatoie da tastiera personalmente utilizzo questa estensione per un tutorial sul mio canale riguardo siti web che potete trovare nella mia playlist Internet Browser per terminare la funzione basta semplicemente muovere leggermente il mouse verso l'alto e vi comparirà un bottone per chiudere l'estensione bene spero che questo video possa essere utile e noi ci vediamo ad un prossimo episodio